Peggy 3 Sono rimasto veramente stupito Di quanto è realistico il gioco Anche rispetto alla versione precedente La cosa più difficile è smettere Ciao, ciao, volevo salutare tutti i giocatori Di MotoGT14, mi raccomando divertitevi E potete usare tutto quello che volete Perché qui se cadi non ti scurtiti Quindi bellissimo Ciao Ciao, sono Simone Corsi Corri Moto2 con il team NGM Forward Mobile Il gioco è molto bello Il 2014 è veramente realistico E oggi abbiamo giocato tantissimo Quindi aspetto, non vedo l'ora che uscirà a fine giugno Ma è sempre bello quando compri un gioco E ci sei tu E anche i miei amici O altri bambini che giocano Che mi dicono Ho scelto te per giocare Quindi è sempre bello E fa sempre piacere Ciao a tutti E vi aspetto online Per fare le sfide Ciao, sono Lesi Spargaro Pilota dal NGM Forward MotoGP È spettacolare È molto realistico I grafici nuovi È spettacolare Io ho giocato tanto nel vecchio E questo è molto più reale Il cambio di edizione È veramente molto vicino alla realtà A me mi piace tanto perché si assimila alla realtà La maniera che patina, ruota dietro Il movimento, l'inserimento e curva È molto simile al nostro Il gioco ha migliorato tanto dall'anno scorso E si assimila abbastanza Ciao a tutti Mi ricomando che fai una protezione di carbonio qua Perché una volta che inizi a giocare Non puoi fermarci I'm Colin Edwards I mean the game is great obviously I don't have the ability or the skill right now to play it I have three kids at home So I don't have a whole lot of time to play But as far as realistic Yeah, it's unbelievable Yeah, I mean as far as the game is concerned It seems like brake markers are pretty natural About what we remember You know what you remember Tip in points, all that stuff So I mean as far as the physics and the reality of it Yeah, it doesn't get any more real Hello MotorGP for team players Stay with it MotoGP 14 That's evolution Peggy 3 I don't know if you want to 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 know if you Grazie per la visione! Prende l'eclipo e l'occo marguita. Per questo non è così che la gente ti sorprende. MotoGP 14, testata da Forflora. Grazie.